La prestazione c'è ma il due torri rimane ancora a bocca asciutta. La formazione pirainese sfoggia grinte e carattere, ma oltre alla più quotata cavese ci si mette pure l'arbitro Colinucci di Cesena a dare sfogo alle polemiche di fine gara, basate su almeno due decisioni che hanno condizionato pesantemente il risultato finale. La cavese reciterà il ruolo di protagonista in campionato e non avrà bisogno di aiuti arbitrali, il due torri dovrà confermare invece in futuro le prestazioni di questo inizio di stagione sperando in maggior fortuna. La gara si accende al sesto con un bel lavoro di Lamberti che crossa al centro con un leggero esterno verso la porta, la palla si stampa nella parte interna del palo. Pericolo scampato per l'undici di Alacqua che risponde con Charlie Venuti con una bella conclusione dal limite fermata da De Luca senza troppi affanni. Il più forte è De Rosa, il numero 10 comincia a provarci da lontano, il primo tiro da 20 metri sorvola la traversa. Al 27esimo la prima azione incriminata, sul corner dalla sinistra la palla è toccata di mano da Manna, rigore per tutti ma non per l'arbitro che preferisce sorvolare. Nell'incredulità generale si continua dunque a giocare. Il due torri risponde colpo su colpo e sul finire di primo tempo Alizi alla migliore occasione di tutta la partita. Guido sulla destra trova lo spazio per il traversone su cui ha il tempo di staccare di testa l'attaccante numero 9 che deve solo depositare in rete ma la palla non entra nello specchio della porta. Incredibile l'errore sottoporta e sfortuna che sembra bussare sulle spalle della formazione pirainese. La prima frazione si chiude con un gran tiro della cavese che supera ancora la traversa. Gli ospiti giocano comunque con piglio da grande squadra e si rende pericolosa con il neo entrato Capangu che coglie l'esterno della rete. La cavese spinge sempre con una conclusione da fuori di Dio e costretto al disimpegno in tuffo. Al 65esimo gli ospiti trovano il vantaggio. Dalla destra il cross al centro dell'aria. Nel duello di forza l'arbitro Colinucci vede il fallo su Capangu. Stavolta il direttore vede l'irregolarità e fischia la massima punizione. Dal dischetto De Rosa batte di Dio che intuisce ma non quanto basta per parare. Cavese in vantaggio su fallo dubbio e polemiche che cominciano a prendere sempre più corpo. Neanche due minuti e la cavese giunge al doppio vantaggio. De Rosa sempre lui prende palla all'interno dell'aria di rigore. Si gira e lascia partire un tiro sul secondo palo che lascia immobile l'incolpevole portiere del Due Torri. Esultanza intrisa di carica emotiva da regalare ai numerosi tifosi provenienti dalla campania. Minuti caldi della partita e reazione immediata dei padroni di casa che accorciano le distanze con Librizi. Doppio tentativo con il secondo che si infila all'angolo alto. Un gran gol che alimenta le speranze di rimonta per i padroni di casa. L'esultanza di Librizi prova a smuovere i suoi per tentare di completare la rimonta. Ci prova subito venuti con una bella conclusione ancora ad incrociare ma stavolta senza la necessaria precisione. De Rosa per la cavese ha sempre le polveri accese e calce in porta. Di Dio non si fa sorprendere. L'ultima speranza dei padroni di casa è sulla punizione dal limite messa in angolo con astuzia dal difensore della cavese uscito anzitempo dalla barriera. A fine gara tutti a chiedere chiaramente all'arbitro sulle decisioni che hanno penalizzato il Due Torri. La prestazione comunque c'è e fa ben sperare per il futuro prossimo che si chiama derby contro l'Orlandina.